ciao bentornati sul mio canale e benvenuti anche in modo oggi andiamo a fare un video un po' diverso rispetto al solito il materiale che ci occorre sono una tezza bianca dell'acqua o basta anche il lavandino della propria casa e dei colori quelli che vanno a scrivere sulla lavagnetta bianca andiamo insieme e faremo prendere vita i nostri disegni eccoci qua andiamo a disegnare i nostri animaletti ok ho disegnato delle rame chiudiamo e azioniamo come vedete le nostre rame hanno preso vita muovendosi nell'acqua questo potrebbe essere un'alternativa di gioco da fare con i vostri bimbi ciao spero che il video vi sia piaciuto se non vi siete iscritti iscrivetevi al mio canale lasciate un like attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati e lasciatemi un commento se volete sotto c'è il link del mio profilo di instagram al prossimo video ciao ciao